Ciao ragazzi, sono contento che oggi, 21 aprile 2020, mi rendo conto che un po' di teste si stanno svegliando, un po' di teste si stanno svegliando. Siamo chiusi in casa, siamo bloccati, non possiamo uscire, con la scusa delle multe la libertà se ne sta un po' andando. Io ho preso spunto da queste cose un po' con le mie idee, un po' ragionando con la mia testa, ma devo ringraziare delle persone, nonostante io segua soltanto due di queste persone. Queste persone sono un ragazzo veneto di nome Iris Nemeo, che è veramente un rivoluzionario, lo vedrete se ha ascoltato i suoi concetti lasciando stare il fatto che lui urla perché giustamente è incazzato. Iris Nemeo è un ragazzo che sta avendo un grosso successo, è andato da solo in una piazza a manifestare, ha detto che gli hanno dato due multe da 400 euro l'una e ha anche la faccia del rivoluzionario, però è una persona civile, è una persona civile perché ha fatto un video che mi ha fatto venire la pelle d'occa, ha detto ragazzi fate uscire i vostri figli, ma andateli a fare l'amore nei parchi, fateli uscire, non chiudeteli dentro una schiavitù come quella che ci stanno proponendo, proponendo una parola grossa, perché proponendo una parola grossa. Un altro che vi consiglio di seguire, perché è una persona, credo che sia un professore, non so bene quale sia il suo titolo, si chiama Mauro Scardovelli, è un uomo penso che abbia 60 anni, credo che sia piemontese. Mauro Scardovelli è una persona di una precisione, spiega ogni cosa, spiega tutti i lati del covid, tutti i lati di questa pandemia, perché siamo il paese che ha avuto più restrizioni di tutti gli altri paesi, cioè ci vengono a dire adesso che dobbiamo installare una app, ci vengono a dire che il 5G è a posto, adesso tra l'altro ci sono anche le radiazioni provenienti dall'Ucraina, 6 aprile 2020, le radiazioni sono 16 e anche più, più alte di quello che è lo standard, e i 20, come successe nel 1986, e guarda caso siamo proprio in questo periodo qua, aprile, i 20 sono arrivati in Europa, se andate a cercare su internet la nube che arriva dalla Bielorussia potrete vedere che c'è, ed è, dicono naturalmente che non fa niente, un po' di radiazioni, dai, respiriamo un po' di radionuclidi, vabbè, un'altra persona che vi consiglio di seguire, una persona tosta, tosta, si chiama Ingegner Carlo Negri, è un uomo con i capelli lunghi, con la barba, è una persona che vi consiglio di seguire, perché anche lui è sceso in piazza e si è messo a parlare contro questo casino che sta avvenendo, è una persona da seguire, io vi dico la verità, a volte me ne vado un po' in ansia, perché pensi, che dici, ma che cazzo in futuro abbiamo davanti, vabbè, l'ultima persona che vi consiglio di seguire è un ragazzo di nome Francesco, il suo canale YouTube si chiama Smettere di Lavorare, non mi è simpaticissimo, perché uno che si chiama Smettere di Lavorare monetizza il canale, vabbè, però ha una buona causa, perché, come vi posso dire, qualche video che ho guardato di lui ritengo che sia una buona persona, è interessante seguire qualche suo titolo, perché ci sa fare, spiega delle cose in modo chiaro, corretto e tutto. Tutta questa cosa che vi ho detto, e anche il titolo di questo video, è semplicemente perché, perché le teste si stanno svegliando, la gente ne ha pieni i coglioni, e quando la gente ne ha pieni i coglioni, tante micce, una qui, una lì, una la, una su, una giù. A me hanno bloccato diverse live, tre per l'esattezza, da circa dieci giorni a questa parte, infatti ho fatto dei video e li ho caricati sul canale. Comunque, questo è quanto, questo è quello che vi volevo dire, se vi fa piacere andate a visitare questi canali e andate ad ascoltare quello che stanno dicendo, perché ragazzi, qua, questo è un reset finanziario mondiale e noi ci siamo dentro fino al collo. Andate a cercare in rete, ci sono persone che vogliono far crollare l'Italia, quando dal mio punto di vista, e qui ho concluso, se noi tornassimo alla lira, alla nostra vecchia lira, debole lira contro l'euro, diventeremo più competitivi sul mercato. Germania e Olanda e anche la Francia lo sanno benissimo, perché è tanta l'eccellenza che c'è in Italia. Sono tanti cervelli che sono scappati, ma potrebbero ritornare. Ciao.